Continua questo periodo di quarantena forzata e, sorprendentemente, mi trovo sempre più incollato a Animal Crossing New Horizons. Certo, da una parte era prevedibile che il gioco sarebbe stato un vero successo, ma di sicuro non mi aspettavo un tale feedback così entusiasta. Lo vedo all'interno della mia piccola community, ma anche su un pubblico più vasto. Animal Crossing è il titolo del momento e sembra avere qualcosa di magnetico. Cattura lo sguardo di molti e rapisce chi inizia a giocarci. Così, dopo l'ennesima partita da 5 minuti che si è rapidamente trasformato in una sessione da quasi due ore, ho iniziato a chiedermi, cosa ha di speciale New Horizons? Badate bene, questa non è una recensione, è più una riflessione sui punti di forza di un gameplay che, nella sua semplicità, risulta incredibilmente asuefacente. Io sono il Poro Michele e prima di fare un giretto sulla mia isola deserta mi raccomando lascia un like e iscriviti al canale se sei nuovo per rimanere aggiornato sui miei prossimi video. Guardando le anteprime di New Horizons, uno degli elementi che meno mi convinceva era sicuramente quello delle dimensioni dell'isola. Abituato ormai all'estensione delle mappe di gioco degli open world odierni, il piccolo atollo di New Horizons è asfissiante nella sua compattezza. Lo si può infatti percorrere da cima a fondo in pochi minuti e la scelta di integrare la curvatura terrestre nel movimento di camera durante gli spostamenti non fa che rafforzare l'idea di essere chiusi su un piccolo pianeta dove il nostro mondo inizia e finisce con i confini dell'isola. Provando il gioco questo però diventa immediatamente un punto di forza dell'esperienza proprio perché in netta opposizione con quanto ha da offrire il mercato al momento. Non c'è in assoluto un approccio più corretto di altri. Abbiamo visto negli ultimi anni il proliferare di mappe enormi riempite il più possibile da 4-5 macro categorie dei punti di interesse come torri di controllo o avamposti per mantenere alto il livello di attenzione del giocatore ad ogni spostamento. Poi è arrivato Breath of the Wild che ha rivoluzionato il paradigma giocando sulla desolazione e gli spazi vuoti. Il capolavoro di Nintendo ci ha insegnato che il territorio stesso è parte integrante dell'esperienza ed è la distanza percorsa a valorizzare ogni singola scoperta, anche la più piccola. New Horizons unisce questi due approcci condensandoli in una terza via, uno spazio ridotto pieno di stimoli diversificati. Se c'è poco da esplorare, beh, ogni singolo centimetro percorribile ha qualcosa di interessante da proporre ed anche nel live simulator della grande N la mappa diventa parte integrante del gameplay, assumendo un ruolo fondamentale nella personalizzazione della partita. Il fattore customizzazione è il secondo punto su cui mi sono dovuto ricredere immediatamente. New Horizons è uno di quei titoli che va giocato per capirne la grandezza. Se si prendono i vari elementi di game design che lo compongono e li si analizzano singolarmente, è facile rimanere delusi. Dalla creazione dell'avatar al crafting, gli editor sono abbastanza spartani, ma la fluidità con cui interagiscono tra di loro a rendere ogni partita unica. Il risultato è qualcosa di diverso dalla somma dei singoli addendi e il segreto di New Horizons è proprio nella perfetta misura in cui questi vengono amalgamati, così come per le dimensioni della mappa si è scelto un approccio light e misurato anche al world building, all'interattività, all'arredamento della casa. Tutti fattori che garantiscono una sovrabbondanza di azioni da compiere impegnando continuamente il giocatore, senza mai però alienarlo totalmente in un singolo task. New Horizons è insomma un Animal Crossing all'ennesima potenza perché porta avanti con intelligenza il cuore della serie integrando però alcuni degli elementi fondamentali che hanno dominato l'ultimo decennio dell'industria videoludica. Non avremo la complessità di un Minecraft ma looting e crafting sono uno dei cuori pulsanti dell'esperienza, dove però in ugual misura ci si può fermare a pescare, fare una chiacchiera col vicinato o esprimere le proprie emozioni senza una vera finalità. Dopo lo spazio quindi un ruolo fondamentale lo assume il tempo di gioco. New Horizons va contro la frenesia a cui siamo abituati e propone ritmi dilatati che non impongono nessun limite stringente al giocatore. È sbagliato dire che il gioco non abbia un obiettivo o una finalità, tutt'altro. Se ci si ritrova immersi in sessioni di gioco infinite è proprio perché si viene continuamente sommersi da compiti che richiedono per essere completati la chiusura di numerose operazioni che a loro volta aprono la strada ad ulteriori sub-quest. Tutto questo mentre ci si imbatte casualmente in eventi random che non fanno altro che aumentare la nostra to-do list, senza contare l'ottima implementazione dell'Emilia Nook, una sorta di achievement list in continuo refresh che senza sosta ci ricorda i nostri progressi e premia le attività, incentivando un playstyle quanto più diversificato possibile. La differenza però è che non ci sono limiti di tempo né una reale gerarchia di importanza, quindi è il giocatore a decidere il ritmo e l'ordine di progressione. Il free roaming è veramente slegato da qualsiasi logica di completamento e sebbene ci sia un punto di partenza e uno di arrivo, non c'è nessun corridoio da seguire, ma una serie infinita di diramazioni e detour dalla lunghezza non prestabilita. In conclusione vorrei soffermarmi proprio sull'elemento che trovo più azzeccato e forse racchiude l'essenza di Animal Crossing e quasi con un colpo di scena si potrebbe dire essere stato preso dai free to play tanto in voga sui cellulari. Gli sviluppatori di New Horizons non hanno nessuna paura di annoiare il giocatore e piuttosto che inserirlo in una continua montagna russa di sequenza al cardiopalma, scene di azione e combattimenti frenetici, preferiscono farlo aspettare. Ogni costruzione infatti richiede del tempo per essere l'ultimata, ma tempo reale e tempo di gioco coincidono. Quando Tom Nook mi informa che il ponte sarà pronto domani, non è un modo di dire, è un obbligo a fare altro, a fermarsi, a scegliere come continuare la propria avventura. Si può ovviamente barare e iniziare a giocare con l'orologio interno della Switch per eliminare qualsiasi tipo di attesa, ma secondo me si perde la genialità dietro a una scelta di game design del genere. La vera sfida, insomma, non è trovare il tempo, ma riuscire a godersi ogni istante, pianificando e diversificando e anche personalizzando. Ma nulla vieta di fermarsi, di sedersi e di prendersi del tempo per sé, per riflettere sui tempi morti o per ammirare la nostra creazione. E voi poracci cosa ne pensate? Siete d'accordo con la mia analisi su Animal Crossing o vi sta appassionando per altri motivi? Vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, broxato, ciao!